Un box gourmet e i consigli di viaggio di Chef Rubio per terminare con gusto la domenica dopo un viaggio nel weekend e affrontare al meglio la settimana in arrivo. È la sorpresa che i viaggiatori in arrivo alla stazione centrale di Milano hanno trovato domenica sera. Ci ha pensato Trainline, il leader europeo indipendente della vendita di biglietti del treno online, che ha coinvolto nell'iniziativa lo chef viaggiatore Rubio. Viaggiare è importante per conoscere nuove culture, per lavorare dove è possibile lavorare invece che magari nella propria città perché magari ci sono esigenze diverse. Insomma, sia per lavoro che per piacere viaggiare è fondamentale e nel corso degli ultimi dieci anni tutti quanti sono riusciti ad avere un accesso più facile al viaggio e quindi si è democraticizzato tutto. Tantissimi viaggiatori in arrivo che hanno partecipato all'iniziativa, hanno lasciato un post con un pensiero di viaggio e hanno ritirato il portavivante Gourmet prima di rincasare. Se avessi trovato al mio rientro verso Roma, Milano, un sacchettino come quello che troveranno oggi gli avventori con una schiscetta, con un panino e una bibita, magari con un frigo vuoto a casa, insomma niente male. Una sorpresa che si aggiunge al benessere di un weekend in viaggio, soprattutto se la gestione è stata stress free con i servizi offerti dall'app di Trainline, come spiega il country manager in Italia della società Benedetto Levi. Oggi, grazie alla tecnologia, è sempre più facile viaggiare. Ad esempio con Trainline è possibile confrontare tutte le offerte, le tariffe per viaggiare in treno in Italia, quindi comparando Trenitalia e Italo, ma anche in altri paesi europei, in Francia, in Germania, per un totale di 86 compagnie ferroviarie. Grazie a tutti!